Divertimento, musica, colori e allegria nei carnivali a misura di bambino in svolgimento nella Piana di Lucca. A Marlia, seconda uscita del Carneval Marlia, manifestazione promossa dal Comitato Locale e dal Comune di Capandori in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. All'appuntamento in Piazza del Mercato e in una parte di Via Paolinelli erano presenti le mascherate e sei carri allegorici su ognuno dei quali i bambini sono potuti salire. Quello del Marillone, il pagliaccio simbolo della manifestazione e quelli dei rioni Ponticello, Selvette La Fraga, San Donnino e Santa Caterina, oltre a quello delle scuole Donaldo Mei. Durante tutto il pomeriggio poi ci sono state animazioni per i bambini, giochi e stand gastronomici. Il Carneval Marlia proseguirà per altre tre domeniche, il 16, il 23 febbraio e il 1 marzo. Pochi chilometri più verso Pesce è andata in scena la seconda uscita del Carnevale di Veneri, manifestazione giunta alla sua 39esima edizione patrocinata dal Comune di Pesce e organizzata dal volontariato. Anche in questo caso si tratta di una manifestazione dedicata ai più piccoli e alle famiglie, con tanta musica e divertimento, animazioni, giochi e prelibatezze gastronomiche. C'è anche la mongolfiera sulla quale si può salire con i bambini per provare l'ebbrezza di un volo controllato e per vedere dall'alto Veneri e il suo Carnevale. Nove i carri che sono sfilati per le vie del paese, fra i quali il magico trenino per l'occasione con tante luci. C'è il carro dedicato ai mestieri, quello della Formula 1, la casetta di Mascia e Orso, la barca che raccoglie i rifiuti dal mare e quello dedicato al castello di Riartù e alla spada nella roccia. Anche qui i bambini possono salire sulle costruzioni. Ultimo appuntamento con il Carnevale di Veneri, domenica prossima, 16 febbraio alle ore 14.30.